La polizia locale ha sequestrato in via Guatemala un cantiere in cui si stava realizzando un edificio di oltre 100 metri quadrati ritenuto essere totalmente abusivo. I vigili urbani hanno anche segnalato all'autorità giudiziaria i proprietari di altri 5 immobili nelle contrade Olivieri e Capraro, nelle vie Luigi Russo e Di Vittorio e in piazza Libero Grassi risultati edificati in assenza di concessione edilizia. Nell'ambito dei controlli ambientali, la polizia locale ha inviato alla procura tre comunicazioni di reato per inottemperanza d'ordinanza di bonifica nei confronti di altrettanti cittadini, già in precedenza segnalati responsabili di abbandono di rifiuti, sequestrando al contempo un terreno in contrada piano Guastella, dove i gnoti avevano abbandonato rifiuti speciali ed inquinanti. Un cittadino colto in flagranza di reato mentre trasportava rifiuti senza averne l'autorizzazione è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Il mezzo e il carico sono stati sottoposti a sequestro. A Scoglitti i vigili urbani hanno controllato un esercizio commerciale di generi alimentari gestito da uno straniero e hanno rinvenuto un grosso quantitativo di prodotti esteri non riportanti la dicitura in lingua italiana. Molti dei prodotti erano già scaduti da anni. Il titolare dell'esercizio è stato verbalizzato mentre la merce è stata sequestrata e distrutta. I controlli proseguiranno capillarmente anche nei prossimi giorni, come assicurato dal comandante della polizia locale Cosimo Costa.